Le fonti dedicate alla cosiddetta Lega Veronese sono esclusivamente narrative. L'opera del Cardinal Boso, spesso considerata una vera e propria biografia di Alessandro III, che è anche la fonte più particolareggiata ed esaustiva, i lavori di Acerbo Morena, avvocato di Lodi appartenente allo schieramento pro-imperiale, l'anonima Historiam Ducum Veneticorum e il racconto di Chinnamos, segretario dell'imperatore Emanuele Comneno. Il testo del Boso, che è dove ritroviamo il nome dell'associazione, Veronensium Societas, ci racconta che le motivazioni della stipulazione del giuramento sono da ricercarsi nel gioco di servitù imposto alle città della marca veronese, Verona, Padova, Vicenza e Venezia, da parte dei funzionari imperiali. Altre fonti dipingono un quadro più complesso. Nella Historiam Ducum Veneticorum si ammette candidamente che la ribellione era stata stimolata dalla diplomazia veneziana, senza però ricordarsi che queste operazioni diplomatiche non erano state finanziate interamente dalla tesoreria del Doge. Chinnamos ci ricorda infatti che tra il 1162 e il 1164, Cialofes, principale uomo di Bisanze in Ungheria e Dalmazia, aveva compiuto alcune missioni proprie a Venezia. Da questo punto di vista, la fonte più completa risulta essere Acerbo Morena, che per spiegare le ragioni della formazione della lega veronese, sottolinea sia il denaro di Venezia, sia il peso oberante del governo del conte Palatino, sovrano del castello Sul Garda, e di altri funzionari imperiali. La formazione della lega veronese è da inquadrare in una rete più ampia di rapporti diplomatici, quella che aveva portato alla formazione di un'alleanza adriatica tra Bisanzio, Venezia e i Normanni. All'interno di questa alleanza, Venezia era il punto di contatto fra gli altri partiti e le città dell'Italia settentrionale, dove aveva assunto il grado di prima avversaria dell'imperatore dopo la caduta di Milano nel 1162. Essa era infatti molto vicina a Papa Alessandro III, ospitando addirittura il cardinale Il De Brando Crasso, ultimo rappresentante del pontefice in questa porzione della penisola. Gli interessi di Venezia risiedevano nella necessità di contrastare l'egemonia imperiale allo scopo di conservare una situazione politica frammentaria che le avrebbe garantito sicurezza e ampio spazio di manovra, con un occhio sempre puntato verso est, l'Adriatico e la Dalmazia. Nel campo bizantino, intanto, l'obiettivo di Manuele Comneno era il controllo della costa orientale dell'Adriatico e l'ottenimento di una testa di ponte in Italia. Il supporto da Alessandro III e i fitti contatti con le città italiane, fra cui spicca Ancona, sono da osservare con gli occhi di chi desidera evitare l'egemonia del Barbarossa sull'intera penisola e, di conseguenza, su una vasta porzione del Mediterraneo. I normanni, d'accanto loro, erano direttamente minacciati da un'operazione militare del Barbarossa che da tempo bolliva in pentola e iniziava finalmente a materializzarsi dopo che quest'ultimo aveva posto ai suoi piedi l'Italia settentrionale. Per contenere la ribellione, Federico cercò di creare un cordone di sicurezza di città a lui fedeli, garantendo l'esercizio delle regalia e altre importanti concessioni alle città che confinavano con la lega veronese, Ferrara e Mantua. Queste due città sono importanti nella strategia federiciana anche dal punto di vista geografico, essendo i loro dei territori di passaggio per chi desiderasse accedere alla Lombardia o alla Romagna. Nel frattempo la diplomazia pro-imperiale si mise in moto e, secondo Acerbo Morena, Cremona, Pavia, Lodi e Como organizzarono un'assemblea assieme ai membri della Lega per discutere la questione del dominio imperiale. Le trattative però si arenarono presto e Federico ricorse alle armi, muovendo contro la Lega un esercito composto principalmente da alleati lombardi. Si ritrovò in forte minoranza e con il morale basso. Proprio gli alleati non parevano disposti a combattere le truppe venete, quindi decise di ritirarsi. La ritirata dell'imperatore vide, secondo gli annali di Milano, Cremona cambiare campo, prestando giuramento alla Lega. A parte qualche altro incidente, però, la ribellione non pare di fondersi ampiamente. La rivolta della Lega veronese non spinse Federico a cambiare strategia, anzi, pare che il suo controllo sull'Italia settentrionale si fece più duro. Il continuatore anonimo di Acerbo Morena ci riporta infatti un'ampia lista di abusi da parte dei funzionari imperiali, funzionari che, secondo alcune prove documentarie, sembrano essere in larga parte tedeschi. Sempre delle evidenze documentarie ci ricordano ancora una volta come questi abusi non fossero soltanto propaganda, mentre le loro conseguenze avevano, come appena detto, spinto Cremona tra le braccia della Lega. Da questo punto di vista, il comportamento di Cremona può identificarsi come il primo motore della formazione della seconda Lega, quella più nota, quella che porta il nome di Lega Lombarda. Il malcontento cremonese va forse ricercato nel fatto che, sconfitta l'egemonia milanese grazie all'intervento imperiale sull'Italia era andata a posarsi un nuovo e più oppressivo controllo, oltre al fatto che alcune ambizioni cremonesi, come il controllo su Crema, sull'isola Fulcheria, su Luzzara e Guastalla, erano state frustrate dalle disposizioni imperiali. Spostandoci avanti di qualche anno, al collasso del sistema imperiale e alla formazione della Lega Lombarda nel 1167, vediamo infatti Cremona in prima fila nell'attivismo confederativo, nonché la non ricostruzione di Crema posta come condizione per la sua partecipazione tra le filari belli. La questione della Lega Veronese non andò intensificandosi per ancora due anni. Nel novembre 1166 Federico avviò la spedizione che avrebbe dovuto dare il colpo di grazia ad Alessandro III e ai suoi alleati normanni. In un'assemblea nei pressi di Lodi, tenuta fra dicembre 1166 e gennaio 1167, numerosi esponenti laici e clericali della popolazione lombarda gli presentarono rimostranze rivolte contro il dominio dei suoi agenti. L'imperatore ascoltò le lamentele, ma non ritenne di prendere nessun provvedimento, avviando presto la sua marcia verso Meridione. Il testo che state leggendo è tratto dal secondo capitolo di Raccagni The Lombard League 1167-1225 intitolato Formation, Expansion and Membership of the Lombard League to 1183 paragrafo 2.1 Prelude The Veronese League 1164-1166